Il dato ambientale, i siti di interesse nazionale, le infrastrutture idriche, l'uso del territorio e il benessere dei cittadini abruzzesi. Una a due giorni con cui Art Abruzzo accende riflettori sulla rivoluzione verde declinata in ottica non solo ambientale ma anche sociale ed economica, promuovendo un dibattito tra le istituzioni del territorio e le migliori eccellenze italiane nel campo della protezione dell'ambiente. Sono giorni di grande impegno per rappresentare agli abruzzesi il lavoro qualitativo di Art Abruzzo nel campo dell'acqua, dell'aria e del suolo ma non solo, anche una strategia multidisciplinare che è la strategia del benessere che vede Art Abruzzo per volontà del legislatore regionale soggetto attuatore. Sarà un modo per rappresentare il grande lavoro a tutela dell'ambiente e a tutela della salute della collettività abruzzese. Attraverso un concetto più ampio della tutela ambientale, attraverso un concetto più ampio del benessere. Benessere che può essere anche un'alimentazione adeguata, benessere sono stili di vita adeguati, buone pratiche, il tutto attraverso e nel mezzo di un mondo pulito, sano, come quello oggetto della tutela ambientale di Art Abruzzo. Essendo noi un sistema a rete, anche le altre agenzie per la tutela ambientale partecipano attraverso l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale e attraverso il Vicepresidente di SNPA, che è il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, per condividere esperienze, dati scientifici e soprattutto per collaborare a questa due giorni di lavoro abruzzese. Ospiti e relatori della manifestazione, i direttori delle maggiori ARPA nazionali, agenzie regionali per la protezione ambientale. Marco Lupo, Vicepresidente Sistema Nazionale Protezione Ambientale, direttore generale ARPA Lazio. Che valore ha una giornata come questa per la creazione di un sistema di rete di tutte le agenzie regionali italiane? Sono momenti fondamentali. Diciamo che l'obiettivo di queste giornate è, a parte discutere di un tema di attualità, come la transizione ecologica, poi in questo caso connessa anche al benessere, quindi all'aspetto della salute e della qualità della vita, ma è proprio quella di, non tanto dell'accountability, cioè di rendere conto della nostra attività, che ci sta, ed è giusto, ma proprio quella di aprirsi, diciamo, alla collettività, no? Di avvicinarsi al singolo cittadino e sviluppare la conoscenza in materia ambientale, perché la conoscenza, l'informazione, i dati ufficiali sono, secondo noi, fondamentali, no? Sono fondamentali per consentire non solo al decisore politico di assumere decisioni consapevoli, ma anche al cittadino per prendere parte a questo processo decisionale e per superare un po' anche quella sfiducia nella pubblica amministrazione, che poi è quel terreno su cui, insomma, il pensare antiscientifico si sviluppa e fa dei danni poi anche all'ambiente stesso. Il sistema è un valore aggiunto per il Paese. La legge 132 che lo istituisce nel 2016 dice che bisogna fare rete e in questo Paese abbiamo molto bisogno di fare rete, di fare squadra. È un mestiere complesso il nostro, fatemi passare questa definizione, per cui il confronto è una necessità, è uno strumento di lavoro di tutti i giorni. In questo caso è anche interessante seguire il percorso che Arta sta facendo e questo connubio con il benessere credo che sia un'importante chiave di lettura del nuovo ruolo delle agenzie ambientali che devono dare supporto attraverso il sistema della conoscenza a quello che definiamo lo sviluppo sostenibile, oggi transizione ecologica. Abbiamo bisogno di acquisire conoscenza, condividerla a livello nazionale perché sulla conoscenza si possono basare le future traiettorie della transizione ecologica. Bisogna avere la capacità di ascoltare l'ambiente, di prevedere gli scenari futuri, questo per la lotta al cambiamento climatico è fondamentale e quindi crediamo che i nostri strumenti, le nostre professionalità, le persone che con passione lavorano all'interno dei sistemi dell'agenzia ambientale siano un valore aggiunto per il Paese. Questa esperienza di conferenza regionale Abruzzo sarà un primo esperimento secondo me che esporterà Art Abruzzo al di fuori del suo territorio regionale. Credo e auspico che ci siano altri appuntamenti similari, analoghi come seconda, terza, quarta edizione per fare un aggiornamento, un punto dello stato dell'arte proprio su questo tema specifico e io mi auguro anche su altri temi, insomma in materia ambientale. Quindi è lo spunto, è una prima conferenza giorno zero che dovrà avere un seguito, se no sarà finalizzata semplicemente a se stessa, la ricorderemo come un bel evento in una bella location e nulla più, ma non può essere solo questo assolutamente. Stiamo facendo una convenzione che faremo a tre, anche un pezzettino con la regione, con l'Arpa Puglia per un nuovo gasdotto che percorrerà tutta la costa molisana ma inizierà dall'Abruzzo e finirà dopo pochi chilometri in Puglia. Quindi questo è proprio stretta, stretta attualità. Cosnam stiamo facendo questa convenzione e poi noi abbiamo un territorio molto similare nel senso che abbiamo la costa, quindi condividiamo una parte del parco nazionale appunto dell'Abruzzo che poi termina proprio all'inizio del Molise, abbiamo montagne quindi abbiamo molte anche dal punto di vista della cultura, proprio dell'agricoltura, abbiamo tanti, insomma punti di, anche a livello agricolo, insomma punti di cultura di eccellenze similari e noi stiamo facendo adesso, stiamo elaborando con il direttore Dionisio anche una convenzione per far fare a Dart Abruzzo delle captazioni, campionature, prelievi sulla qualità dell'aria, su alcune aree particolarmente sensibili del territorio molisano quindi diciamo la collaborazione e la partnership in modo particolare tra Abruzzo e Molise è fervente, insomma ci auguriamo di implementarla sempre più, poi noi abbiamo un'idea, almeno io ho un'idea di sistema agenzie, ogni agenzia deve cercare di trovare o meglio di dare una sua eccellenza, non può fare tutto in maniera eccellente e questo metto a disposizione delle altre agenzie, quindi questo è secondo me la sfida della competitività anche in tema ambientale, quindi perché non possiamo essere su tutti i campi i primi, quindi io sarò portatore per quanto riguarda Arpa Molise di questo tipo di modello e ben vengano giornate come queste che ci consentono di fare focus mirati anche diciamo al di là e col patrocinio del sistema nazionale di protezione ambientale che ha comunque una visione un po' più strategica qui invece c'è sì c'è una parte strategica ma molto più poi vicina all'operatività Art Abruzzo soggetto attuatore di Abruzzo Regione del Benessere, una competenza che si aggiunge alle attività già portate avanti in linea con la transizione ecologica, una novità in tutta Italia, come? Sì è vero, è un'estensione della sua missione tradizionale storica che però è pienamente nella linea di ciò che fa l'Arta, il benessere nasce innanzitutto dal vivere su una terra sana, cibo controllato, acqua potabile, mari balneabili, fiumi con i pesci e non con le discariche abusive, insomma è chiaro quella è la base principale del benessere, poi il benessere ha un'accezione più ampia che comprende anche stili di vita, sport, cultura, socialità e così via. Abbiamo inteso dare però all'Arta proprio perché la radice del benessere è quella, questa missione di essere il soggetto attuatore di un progetto così complesso e multidisciplinare che poi coinvolge nelle necessarie collaborazioni istituzionali, le aziende sanitarie, quelle per i servizi alla persona, i comuni, il volontariato, il terzo settore, insomma tutte le varie altre articolazioni di cui si compone la società. L'Abruzzo parte intanto con un retroterra importante, la Regione Verde d'Europa, tre parchi nazionali, uno regionale, decine di aree protette, insomma un patrimonio ambientale molto molto forte, calato peraltro in una Regione a forte vocazione industriale, una delle più industrializzate d'Italia e sicuramente del centro-sud. Questa sintesi bisogna coltivarla, continuare ad essere una Regione produttiva, una Regione aperta all'impresa e al lavoro, ma che sappia farlo nel pieno rispetto dei valori ambientali che diventano a quel punto il valore aggiunto per attirare turismo, oggi invece fino ad oggi poco sfruttato dalla nostra Regione che è poco attrezzata su questo settore, troppi anni di poca attenzione rispetto a questo settore e quindi noi stiamo lavorando per intercettare anche queste domande. Su vari strumenti, a cominciare dal piano nazionale di recupero e resilienza, per finire passare poi alla programmazione ordinaria dei fondi europei che sta iniziando, ci sono risorse importanti su questi temi che vanno dal ciclo dei rifiuti, quindi in piantistica, comuni, aziende e consorsi hanno presentato e stanno presentando progetti per ampliare le piattaforme del trattamento dei rifiuti, parliamo di logistica e di infrastrutture per rendere l'Abruzzo sempre più accessibile, ci sono progetti sulle bonifiche ambientali e la tutela dei corsi d'acqua, quindi tutta una serie di progetti che servono a trovarci pronti all'appuntamento, in particolare sul fronte energetico, noi siamo capofila di progetti molto ambiziosi sull'idrogeno e in particolare sull'idrogeno verde. Il tema della transizione ecologica si sposa benissimo in una regione che sta facendo dialogare tanti comparti ambientali e l'Arta in tutto questo rappresenta un po' l'agenzia che unisce tutti questi ambienti naturali diversi, che tipo di transizione sarà quella dell'Abruzzo? La regione Abruzzo è di per sé culturalmente, strutturalmente una regione già in transizione ecologica di per sé perché è una regione che riesce a far coniugare quello che è il valore altamente ambientale di una regione con tre parchi nazionali, un parco regionale, 26 riserve regionali e un'area marina protetta con quelle che sono in alcune realtà della nostra Abruzzo delle aree industriali più importanti d'Italia, tipo la zona del Basso Vastese ed altre realtà. Questo per dire cosa? Che la parola sostenibilità economica, sociale, ambientale in regione Abruzzo già di per sé è culturalmente pronta. Stiamo cercando di dare contenuto e qualità e saranno le sfide che avremo con i nuovi finanziamenti comunitari e il PNRR per potergli dare quel contenuto e fare quel salto di qualità, cioè trasformare quello che è il valore dell'ambiente nella opportunità di crescita, nell'opportunità di sviluppo, nell'opportunità nel rispetto ovviamente dell'ambiente ma di dare ciò che i nostri cittadini e i nostri territori aspettano anche in quelle aree, in quelle aree marginali più difficili che sono le aree montane e le aree interne. E anche l'evoluzione che sta avendo Arta, che ringrazio per l'altissimo lavoro istituzionale, per i compiti che ha e per la delicatezza con cui vengono affrontati tematiche ambientali, ma la qualità dell'aria, la qualità dei nostri mari, la qualità delle nostre terre, cioè la qualità dei nostri prodotti, introducendo elementi anche legati all'altra parte della materia che è l'agricoltura, fanno sì che la nostra regione sia una regione che crei le condizioni del benessere. Ecco qui una regione, la regione Abruzzo, una transizione ecologica a una regione del benessere, dove l'unico obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita, di mettere a disposizione cibi, modi di vivere e opportunità per tutti i cittadini, ma questo è un modello che nel momento stesso in cui è definito dobbiamo essere in grado di saperlo comunicare e trasmetterlo a livello nazionale e internazionale. Cioè questa è la sfida, trasmettere il valore della nostra regione fuori i nostri confini. Fino ad oggi ce la raccontiamo tra di noi, la sfida dell'internazionalizzazione su cui stiamo lavorando pesantamente come giunta regionale ha proprio questo obiettivo. Nell'ambito della manifestazione è stato infatti presentato anche il nuovo automezzo Arta, che consentirà rilevazioni sul territorio di massima precisione. Mezzo mobile, nuovissimo, modernissimo, dotato delle più sofisticate apparecchiature per eseguire analisi nel campo ambientale e quindi su tutte le matrice, aria, acqua, suolo, riusciamo praticamente sia a, chiamiamo così, a prelevare campioni di aria e quindi andarli e li portiamo in laboratorio per essere analizzati, oppure possono essere analizzati direttamente all'interno del mezzo con apparecchiature sofisticate. Inoltre il mezzo è dotato di due droni che ci consentono anche di intervenire in situazioni emergenziali e quindi attraverso il sorvolo di questi droni riusciamo anche andare a verificare se ci sono, dove avvengono le ricadute degli inquinanti atmosferici, così come è possibile risalire il corso di un fiume e andare a vedere e verificare dove ci possono essere degli scarichi abusivi. Oppure, per esempio, posso volare sulla nostra costa, anche sul mare, per vedere appunto se ci sono dei rilasci di idrocarburi o di altre sostanze inquinanti. Nel momento in cui, chiaramente, questo viene avvistato, i nostri mezzi partono, nel caso del mare, la nostra motonavermione, per andare appunto a campionare e portare i campioni in laboratorio.